Mi chiamo Meri, ho aperto questo negozio da maggio dell'anno scorso, abbiamo un po' di tutto, diciamo il nostro negozio è specifico solo sull'usato e non di vestiario, oggettistica e diciamo anche quello che è collane, spille, braccialetti. Ci trovate in piazza Alpini a Pianconio, il numero di telefono è 349 162 87, l'apertura è dal lunedì pomeriggio alla sabato. Al prossimo episodio